Il Castrovillare spugna Palmi non senza qualche brivido nel finale, muove una classifica al momento deficitaria. Pronti via e Rossoneri in vantaggio, il secondo minuto quando la ragione si trova sui piedi una corta respinta della difesa palmese, il sinistro è potente e preciso, niente da fare per Cannizzaro. I padroni di casa accusano il colpo e due minuti dopo su uno svarione difensivo la volè di Guarnacino sfiora l'incrocio dei pali. Al quinto minuto il Castrovillare raddoppia, cross in mezzo dalla fascia destra nel tentativo di liberare Maesani c'entra in pieno Gagliardi, palla in rete, disperazione del centrale palmese. La reazione dei padroni di casa all'ottavo minuto, cross dalla destra, libera la difesa rossonera. Sull'angolo conseguente, Buonaddio non dà forza al suo colpo di testa, si salva Iolfi. Al decimo il signor Loreto assegna alla palmese un calcio di rigore per fallo di mano di Barillaro al limite dell'area piccola. Dal dischetto Condemi accorcia le distanze. Galvanizzati dalla rete dell'1 a 2, la palmese spinge alla ricerca del pari. Il cross dalla sinistra di Buonaddio non trova nessun compagno pronto alla deviazione. La foga in avanti dei padroni di casa lascia però ampi spazi alle ripartenze dei rossoneri che al 27esimo calano al tris. La pressione di La Ragione costringe all'errore Villa, Guarracino appena in aria lascia partire un destro radente che batte Cannizzaro non senza colpe nell'occasione. La palmese prova a reagire, assist di Condemi per Buonaddio che tira a colpo sicuro. A Iolfi para, sulla corta respinta il numero 1 rosso e nero, è iperreattivo sulla conclusione di Carbone. Al ventiquattresimo Guarracino grazie all'ennesimo svarione difensivo dei padroni di casa alla palla del 4-1. Ma prima Cannizzaro e poi la mira sbagliata di La Ragione salvano i palmesi. Nella ripresa un tentativo di cross dalla sinistra dei padroni di casa per poco non sorprende a Iolfi. I rossoneri non stanno a guardare e con consiglio sbagliano un rigore in movimento. Il festival delle palle gol mancate continua con Cangemi che da distanza ravvicinata lambisce il palo. Gol sbagliato, gol subito è una regola non scritta ma veritiera. Al decimo minuto Buonaddio evita in uscita Iolfi e di destro deposita in rete. I rossoneri non subiscono contraccolpo e hanno subito l'occasione più ghiotta per chiudere la partita. Il desto di Guarracino dalla cortissima distanza non trova lo specchio della porta. Ancora una volta la incapacità dell'undici di Mr. Marra di chiudere il match regala il pari alla Palmese. I padroni di casa galvanizzati dal pareggio hanno subito un'altra occasione con Tiboni. Il tiro dal limite del numero 9 trova sulla traiettoria Iolfi. Sul capovolgimento di fronte Guarracino centra in pieno la traversa. Castro Villare ancora sciupone con la ragione. Prima con il destro trova pronto alla deviazione il numero 1 Palmese. Sulla cortare spinta il sinistro del giovane numero 11 Rosso Nero non trova lo specchio della porta. È praticamente un tira al bersaglio. Al 29esimo Guarracino servito dalla destra tira a colpo sicuro ma il numero 1 Palmese nega il gol al bomber Rosso Nero. Canizzaro si ripete subito dopo con una conclusione dal limite dei Rosso Neri. Compiendo subito dopo un vero e proprio miracolo sul tappin di Gagliardi. Al 76esimo la Palmese chiede un calcio di rigore per fallo di mano in area rosso nera. Ben piazzato l'arbitro lascia correre. Micidiale ripartenza degli ospiti con Kinn che si libera di tre avversari e calibra in mezzo per Guarracino. Il destro di collo pieno del bomber Rosso Nero infila Canizzaro. Castro Villare di nuovo in vantaggio assolutamente meritato. A tempo ormai scaduto la Palmese soffrisce di un calcio di rigore per atterramento di Tibon. Dal dischetto con Demi sbaglia. Finisce così 4-3 per i lupi. Ma quanta sofferenza!